Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Allora raga, oggi vi voglio proporre un pochettino di glitch da fare con gli amici se siete ancora giocatori e state ancora online E passarvi un po' il tempo Io partirai raga da come entrare dentro la casa di Michael per chi magari gioca da poco, magari qualcuno veramente ha iniziato a giocare in questo periodo con le nuove console Questo è il metodo per entrare online Quindi raga vi dirigete qua al punto giusto proprio dalla finestra in questo punto della mappa dove c'è la casa di Michael E una volta che siete con la schiena contro l'angolino della finestra come state per vedere Semplicemente fate menu di pausa, andate su online, andate su attività, create da Rockstar raga E andate ad avviare la prima gara Una volta che spawnerete dentro l'attività appena siete nell'attività raga la acquittate semplicemente facendo cerchio poi X oppure B e poi A se giocate da Xbox raga Quindi a questo punto e sba da bam ci troveremo all'interno della casa di Michael e potremo visitarla come ci pare e piace raga Io adesso passerei direttamente al prossimo Quindi raga il prossimo lo troviamo da queste parti e dobbiamo dirigerci dal nostro ediporto di GTA di Los Santos raga Una volta che siamo là dobbiamo recuperare un nostro veicolo personale E una volta arrivati andiamo a buttare giù questa sorta di paratia d'acciaio raga Questa cancellata e ci mettiamo la macchina in mezzo Adesso ci dobbiamo allontanare per far rispaunare tutte le cose Quindi prendiamo un mezzo del civile raga Andiamo il più distante possibile e poi torniamo da dove siamo venuti Quindi a questo punto raga dovremo salire sulla macchina o scontrarla Lo fate fare magari a un vostro amico e la macchina sbarellerà di brutto A seconda di come mettete la macchina salterà più o meno E adesso passiamo al prossimo glitch Io raga non mi compacito ancora come dopo dieci anni possono accadere e come possono esserci queste cose nella mappa Ma se voi mi dirigete in questo preciso punto ci saranno i sassi che volano Sì raga come ben vedete ci sono le pietre volanti E sono anche abbastanza strane Perché se noi le andiamo poi a toccare in un determinato modo queste cadono Quindi se vedete adesso io sparo su quella davanti raga e va giù E però la cosa strana e la cosa che veramente fa ridere è che se io sparo poi su quella dove sono io Non cade e dovrebbe cadere Ma se raga ci ho messo un po' per capirlo Noi andremo a ricaricare l'arma e cadrà il caricatore per terra E la cosa divertente è che potremmo fare snowboard con la pietra raga E' veramente veramente una cosa assurda Guardate io ho caricato e sbada bam snowboard sulle pietre su GTA 5 online Io adesso raga passerei al prossimo glitch Allora raga adesso vi faccio vedere una cosa che vedrete da sempre in tanti conosceranno Ma perché non riportarla magari per rinfrescarvi e farvi due risate Parlo proprio di questo raga di far saltare l'ombrellone con noi dentro Quindi il modo corretto qual è prendete un veicolo una macchina una moto quello che volete Spaccate il tavolino qua raga in questa posizione dove c'è il molo è impossibile non riconoscerlo E poi cercate di far ribaltare l'ombrellone in modo che la stecca d'acciaio sia rivolta verso l'alto Una volta che avete riuscito a fare questo step il risultato sarà questo raga guardate che è veramente divertente Sparate nell'angolino e boom sbada bam E adesso vi voglio fare finire il video con una chicca raga Che sembra stupida come cosa ma non tutti lo sanno e delle volte succedono dei guai per questa cosa Quindi parlo proprio di questo Come far sparire le armi da lancio che tiriamo Per esempio la bomba a mano che ha un timing O raga questa qua la mina oppure quella che fa il fumo raga Comunque sia tutto ciò che possiamo tirare il count timing Noi se facciamo un danno e ci ne accorgiamo in tempo Facendo lo switch di Franklin raga si leverà sempre tutto Ovviamente bisogna stare dentro i limiti Perché se state a fare lo switch di Franklin che sta per esplodere tipo la granata Non ce la fate Se invece appena la tirate ve ne accorgete e fate lo switch potrete farla sparire E niente raga io a questo punto vi saluto Lasciate un like se vi è piaciuto il video Commentate, iscrivetevi E niente raga alla prossima Sba, da, bam